Il 18 agosto sarà in scena la BCC di Fano, la compagnia teatrale dialettale improvvisando. Innanzitutto abbiamo qui i protagonisti di questa commedia che nasce, si diceva prima, da quella che poi in realtà è l'esperienza dell'improvvisazione teatrale. Esatto, noi in questa commedia che porteremo in scena, che si intitola Il fidanzato della fidanzata, nello specifico siamo la fidanzata e il fidanzato. In pratica speriamo, diciamo così, siamo al nostro debutto con questa commedia, speriamo di riuscire a far ridere perché non è sempre così semplice far ridere, più facile far piangere. Però diciamo così abbiamo cercato una commedia che fosse appunto attuale, ma che comunque perseguisse quello che è il nostro obiettivo di sempre in tutte le commedie che noi mettiamo in scena, che è quello di comunque insegnare una morale e comunque di lasciare qualcosa in più, oltre alla risata che speriamo di farvi fare nel momento, insomma. A noi ci piace sempre, come diceva Claudia, avere una morale e cercare sempre un testo. Questo l'abbiamo preso da Giovanni Allotta, che è un regista siculo, l'abbiamo tradotto, l'abbiamo un po' cambiato a seconda delle nostre esigenze e ci piace sì sempre portare una morale perché comunque sia oltre la risata deve passare anche un certo messaggio, poi soprattutto di questi tempi.